Il prodotto resiste anche ai detergenti più forti, il pre lavaggio viene lasciato agire come per una macchina normale. Adesso procederemo all'asciugatura. Come vedete nonostante il pre lavaggio molto aggressivo, il prodotto mantiene le caratteristiche e non perde assolutamente il rinnovo fatto. Il prodotto resiste anche agli sgrassanti più potenti utilizzati nelle carrozzerie. Prego. Possiamo far vedere anche che sgrassante è. Vedi che anche lo sgrassante non viene assorbito. Sta tornando come era prima. Documentiamo la resistenza anche agli sgrassanti. Il prodotto non perde effetto. Nel prodotto non è utile. No. No. No.